Ben ritrovati con l'informazione di Unica TV, vediamo quali sono le principali notizie di questa giornata relative alla provincia di Sondrio. Sono state sospese le ricerche dello sciatore disperso sul ghiacciaio dello Stelvio da giovedì scorso. Il soccorso alpino ha però tratto in salvo mercoledì notte un altro escursionista, un lecchese che era disperso in Val Porcellizzo. E poi parleremo dell'allerta meteo, la protezione civile regionale ha infatti prolungato, l'allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Valtellina, quota neve in ribasso e chiusura del passo della Forcola a Livigno e del passo San Marco. C'è spazio anche per lo sport con la nuova Sondrio che vince 4 a 2 in casa contro il Mugio nel turno infrasettimanale rimanendo così in vetta nel girone B di eccellenza grazie alla doppietta di Busto e ai gol di Escudero e Martinez. Questo e tanto altro nei nostri servizi partiamo da quello relativo agli interventi del soccorso alpino. Risultano sospese le ricerche dello sciatore che da giovedì scorso è disperso sullo Stelvio. Fino a martedì le squadre sono risalite in quota con 13 soccorritori impegnati tra cui il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Spelliologico con i tecnici della stazione di Bormio, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Dopo avere atteso il miglioramento delle condizioni atmosferiche le squadre erano riuscite a salire fino al Livrio con le funivie dove i Vigili del Fuoco con particolari strumentazioni tecnologiche hanno scandagliato il ghiacciaio. Le operazioni non hanno però dato esito positivo. Le condizioni meteo in seguito non hanno più consentito la ripresa delle ricerche che risultano tuttora sospese. Un altro allarme è stato lanciato al Soccorso Alpino mercoledì sera anche in questo caso per il mancato rientro di un escursionista lecchese di 29 anni che si trovava in Val Porcellizzo. L'attivazione per le squadre del Soccorso Alpino, stazione di Valmasino, è arrivata intorno alle 19. Impegnati in tutto sette tecnici della stazione con il SAGF, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Le squadre sono salite a piedi verso il rifugio Gianetti seguendo i percorsi più probabili. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso di Sondrio di Areu che ha caricato a bordo un tecnico del CNSAS, pratico della zona, e ha eseguito un sorvolo con i sistemi di visione notturna. Poco dopo una squadra ha comunicato via radio di aver trovato l'escursionista a circa 1800 metri di quota. Il ragazzo che necessitava di cure sanitarie è stato recuperato con il verricello e trasferito in ospedale per accertamenti. E lo avete sentito nei nostri titoli, è stata prolungata nel pomeriggio di oggi l'allerta arancione per rischio idrogeologico sul territorio di bassa, media e alta valtellina. Lo indica il bollettino regionale, mentre la protezione civile è al lavoro per il monitoraggio sull'intero territorio provinciale. Una decina i piccoli smottamenti e cedimenti registrati, anche se in nessun caso rilevanti. Sotto controllo, spiega il responsabile provinciale della protezione civile, Luciano Speziale, fiumi e torrenti e nessuna criticità segnalata al momento. Ad aiutare, afferma, sicuramente l'abbassamento dello zero termico, che nonostante le intense precipitazioni consente di non gravare ulteriormente sui corsi d'acqua già gonfi. Proprio le nevicate intense hanno portato alla chiusura questo pomeriggio del passo della Forcola a Livigno, chiuso in via provvisoria anche il passo San Marco tra Val Brembana e Albaredo a causa della neve. Il bollettino Nivo Meteo di Arpa Lombardia indica alla fine della giornata di oggi nuovi accumuli di neve fino a 50-80 centimetri in quota. Nella notte è atteso l'ulteriore abbassamento della quota neve fino a 1.500 metri. E cambiamo argomento. In occasione della giornata dedicata ai defunti è stata deposta nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri una corona di fiori sulla lapide alla memoria del tenente colonnello Edoardo Alessi, già comandante dell'allora gruppo Carabinieri di Sondrio e comandante partigiano della Resistenza in Valtellina, a cui è intitolata la caserma di Largo Sertoli, insignito della medaglia d'argento al valore militare. Durante la cerimonia a cui ha preso parte anche il prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi, il colonnello Marco Piras ha tratteggiato la figura del suo predecessore, sottolineando come in un periodo storico particolarmente complesso egli abbia sempre tenuto fede al suo giuramento allo Stato italiano. La cronaca ricercato in Svizzera per rapina arrestato. In Italia i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Sondrio e della stazione di Tirano hanno rintracciato un giovane destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Svizzera per il reato di rapina commessa nel canton Ticino nello scorso mese di settembre. Il giovane è stato trasferito al carcere di Sondrio in attesa dell'udienza di convalida della Corte d'Appello di Milano per la successiva estradizione verso il paese richiedente. Ed ora proseguiamo con i nostri servizi. Patto sottoscritto, ora pronti per l'efficientamento energetico della rete idrica regionale che interesserà anche l'Ario Reti Oldi, Brianzaco e Secam. Si chiama Protocollo per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture idriche ed è stato firmato da Regione Lombardia, rappresentata da Massimo Sertori, assessore all'utilizzo risorsa idrica, da Water Alliance, la rete di 13 imprese pubbliche lombarde che si occupano di gestire le acque del territorio e dal gestore di servizi energetici, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Stretto l'accordo non resta che iniziare i lavori di valutazione della qualità energetica di ogni società e di supporto allo sviluppo di infrastrutture che siano sostenibili anche attraverso l'integrazione delle fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi e l'accelerazione degli investimenti. Previse anche attività di informazione, formazione e apertura di uno sportello virtuale di assistenza, sempre nell'ottica di diffondere ottimali pratiche di gestione dell'energia. La firma di questo protocollo da parte di Regione, dichiara l'assessore Massimo Sertori, evidenzia l'importanza strategica che l'ente attribuisce sia alle politiche energetiche volte all'efficientamento, alla diversificazione delle fonti, allo sviluppo delle rinnovabili, sia alle politiche di tutela delle acque. Non a caso il programma regionale di sviluppo della nuova legislatura è definito un programma sostenibile e in esso, conclude, gli obiettivi strategici legati all'energia e alle acque sono dei pilastri fondamentali su cui poggia l'attività del mio assessorato. Buongiorno al Sondrio Festival, un programma intenso anche quest'anno con tantissimi ospiti. Cosa vi aspettate da questa edizione? Beh, ci aspettiamo meraviglie perché è un'edizione veramente molto mestudiata. Per Sondrio è un momento non soltanto di sollecitazioni sulle situazioni ambientali, ma il Sondrio Festival è un motore culturale molto forte, quindi come amministrazione comunale e come soci fondatori dell'associazione Assomido che promuove questo festival, noi siamo orgogliosi del contenitore perché non è solo un contenitore di documentari internazionali che quindi attirano poi le attenzioni di molti registri internazionali sulla nostra città e ci portano i loro discorsi, ci portano la loro natura e come la loro natura vuole essere raccontata, ma in questo diciamo contenitore riusciamo a avere ospiti illustri, ospiti che ci fanno riflettere sulla natura e ci danno anche delle soluzioni, soluzioni che possono essere comportamenti che certamente non porteranno delle soluzioni immediate, ma ci possono aiutare a far sì che la natura venga rispettata e che si possa convivere meglio. Quest'anno è rappresentata tra i documentari anche la nostra provincia con il Bosco dei Bordighi. Certo, il Bosco dei Bordighi è una delle nostre meraviglie e devo dire che è stato fatto un documentario eccellente per raccontarlo. Abbiamo anche una mostra interessante che ci viene offerta dalla Polonia, quindi diciamo la dimensione internazionale è una dimensione veramente completa e ci fa entrare anche in un'ottica internazionale per quanto riguarda i musei. Questo ci rallegra e abbiamo appunto voluto ospitare questa mostra proprio per promuovere anche questo aspetto, cioè un'associazione internazionale di musei della montagna che ci vuole vedere i protagonisti e quindi offriamo loro questa speciale vetrina. Il Sondrio Festival è come sempre un programma intenso, non solo di documentare. Come ogni anno proponiamo ovviamente oltre alle proiezioni ospiti che intrattengono la sera pre-proiezione con questi salottini in cui si sviscerano un pochino quelli che sono i temi trasversali legati all'ambiente, alla cultura di tutela della natura. Partendo con il nostro amico di Sondrio Festival, Massimiliano Sini, che sarà ospite ma anche intervistatore. Jimmy Harrington, che è un fotografo di fama internazionale. Abbiamo poi il nomade digitale Gianluca Gotto, che non poteva mancare il tema montagna. Abbiamo l'ospite, diciamo, di fama internazionale, peraltro, che piace moltissimo al pubblico, che è Hervé Barmas, più molti altri ospiti che vanno a creare questo evento divulgativo legato proprio a questi tema. Oggi prende il via Movember in Morbegno. Cosa proponete alla città quest'anno? Movember è un'associazione che nasce nel 2013 e cavalca l'onda di un movimento internazionale nato in Australia. Associa la parola November, quindi novembre, con la parola mustache, ovvero baffi. Con i nostri baffi vogliamo sensibilizzare su tumori maschili, quindi con il mese azzurro. Durante il mese proponiamo degli aperitivi a tema baffuto tutti i venerdì in alcuni locali di Morbegno e c'è la possibilità per gli uomini dai 49 ai 70 anni di prenotare gratuitamente un prelievo del sangue per misurare il valore del PSA, che è indice appunto del tumore alla prostata. Inoltre, alla casetta, che si troverà per tutti i sabati mattina in Via Nani di fronte alla banca intesa, potrete acquistare, facendo una piccola donazione, i nostri gadget, quindi le t-shirt, i cappellini e delle fantastiche sacche sport. Per le strade di Morbegno si corre la More Running. È stato fantastico. Dopo un po' di giornate di brutto tempo è finalmente uscito il sole e siamo stati tantissimi. Non ci aspettavamo tutta questa affluenza di persone, siamo arrivati a più di 250 persone. Hanno partecipato tutte con il sorriso, alcune si sono fatte i baffi, altre se lo sono disegnate e per noi è sempre stato un gran successo. Oltre alla vostra associazione sono coinvolte anche altre realtà locali? Sì, partecipano con i loro gazebi l'Avis, l'Aido e altre associazioni che comunque promuovono altre forme di sensibilizzazione, di prevenzione e per noi avere il loro appoggio è comunque fondamentale. Tra l'altro noi ci appoggiamo costantemente alla Lilt che ci dà sempre supporto costante. È bello oggi essere qui in tanti a sostenere questa iniziativa, questo mese di prevenzione dedicato in modo particolare agli uomini poiché la conciliazione tra lo sport e la prevenzione vuol dire benessere, vuol dire salute. Anche le amministrazioni sono qui oggi, siamo qui in tanti proprio per presentare questa vicinanza a tutti questi volontari ma soprattutto a tutti coloro che soffrono di queste patologie. La nuova Sondrio cala al poker contro il temuto Muggio in anella la quinta vittoria consecutiva compresa la Coppa Italia e mantiene il primato in classifica nel girone B di eccellenza. Alla Castellina nel turno infrasettimanale contro i Brianzoli finisce 4-2. Mister Fabio Fraschetti recupera Busto e Trani al rientro dalla squalifica mentre rimane ancora fuori Rossi. I primi 15 minuti si rivelano scoppiettanti, al sesto infatti il punteggio si sblocca, Bagie viene atterrato al limite dell'area ed Escudero batte la punizione con una parabola perfetta che gonfia la rete. I Brianzoli provano a reagire al nono con un tiro di Corio appena entrato in aria, neutralizzato in corner da Rodriguez. Due giri di lancetta più tardi e arriva il raddoppio con un'azione di Bagie, velo di mento in favore di Martinez che supera Fabiani, evita l'intervento di un altro difensore e appoggia per Busto che spiazza Tamma e segna. La festa dura pochissimo perché un minuto dopo il Muggio accorcia le distanze, lancio perdonati che si invuola e crossa per Dervisci che anticipa il diretto marcatore e infrange l'imbattibilità casalinga stagionale biancazzurra. L'illusione ospite di poter rientrare in partita dura 180 secondi e Scudero scodella un cross con il contagiri per Martinez che stacca di testa con prepotenza anticipando il difensore ospite e festeggiando il decimo gol stagionale. Il match scorre senza particolari sussulti sino al 31esimo quando Corio serve un pallone in aria a Dervisci che approfitta della posizione avanzata di Rodriguez per superarlo con un pallonetto e fissare il punteggio sul 3-2 a fine primo tempo. La seconda parte di gara vede sempre i padroni di casa protagonisti nell'intento di chiudere il match a cominciare dal 47esimo quando un corner battuto da Baggi e trova pronto Maffia ma la girata di testa da pochi passi termina sopra la traversa. Al 56esimo altra gemma di Busto che dai 35 metri calcia al volo e costringe Tamma alla rincorsa per evitare la rete e al 66esimo il capitano chiude i conti ricevuta sulla destra una palla col contagiri di Cocus si accentra superando due avversari e con un sinistro a giro sigla la sua doppietta personale. E ora i valtellinesi sono al lavoro per la trasferta di domenica in casa dell'Alta Brianza. Buon proseguimento.